E si riparte finalmente con un nuovo look per il nostro mister pronto per la championship decisamente più insomma aderente a quello che è il valore della competizione con questa giacchetta arancione che speriamo porti fortuna per il resto ragazzi io direi che oggi abbiamo parecchio da fare perché avremo almeno tre partite, almeno e ovviamente un mercato da completare perché ci sono un po' di questioni da risolvere prima fra tutte il discorso di Franca allora il buon Franca che sta per passare a S ci siamo resi conto che effettivamente non sa crossare quindi le cose sono due o lo reinventiamo C.O.C ma pure quello lo sa fa poco perché il passaggio corte è 71 rinunciando peraltro a il Diz oppure ce ne sbattiamo e lo facciamo giocare lui sarebbe diciamo un attaccante centrale meraviglioso perché finalizzazione 84 per quanto la freddenza sia bassa ma ci si potrebbe lavorare però però per ora lo vorrei far giocare tipo come esterno che rientra no? Vediamo, vediamo comunque l'idea sarebbe quella per il resto a noi ci servono dei centrocampisi centrali ora abbiamo diversa gente sotto indagine diciamo nella lista trasferimenti aspettiamo anche perché tutti a dire metti Madibo DC ma se io metto Madibo DC chi resta in difesa sta cippa e non credo che sia opportuno quindi vediamo vediamo anche perché poi in difesa tocca capire se riusciamo a fare a meno di di Russ ad ogni modo vi comunico ufficialmente che da buon fan di Fullmetal Alchemist mi avete fatto notare la coppia King Bradley e rimarrà questa anche per questioni di pura per sempre fino a fine serie sarà King Bradley lì dietro in modo tale che si sia tranquilli chi ha visto Fullmetal Alchemist saprà discorso Mitra Mitra non si tocca bene direi che possiamo andare alla prima partita di oggi che è col Cardiff sperando che adivino la prima vittoria di oggi 3-2-1 e via nessuno è imprevisto meno male ogni tanto la fortuna ci arride vediamo che succede ragazzi oggi giornata delicata Crescidei il Diz allora Redondo non me lo cade Redondo che io già vedo i primi i primi a lamentarsi e non lo accetto sappiatelo eh capitale Redondo con la sua pochette è intoccabile ora la grande domanda che tutto il mondo si pone è ma Durant quanto durerà? che tanto sappiamo tutti che che Mitra prenderà rapidamente il suo posto come vice Franca vabbè direi che il Diz non si tocca in quel ruolo eh io cioè dalle statistiche dovrebbe essere un trequartista anche piuttosto mediocre anche piuttosto mediocre ma non lo è ma lui lui non lo sa che è mediocre e quindi spacca la porta ogni volta che tocca palla che poi cioè non c'ha un dribbling particolarmente rifinito non ha un tiro particolarmente forte non ha una finalizzazione particolarmente elevata eppure 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 sempre Franca questo stadio di cui non si vede praticamente nulla guarda Franca Matteuccio Matteuccio col piano piano 9 minuti 2 a 0 non ci credo hai capito? franchina bene bene perché poi lo so che Franca sarebbe perché c'è la C però a noi ce ne può fregare è Franca per gli amici Franca ragazzi potrebbe essere tipo la prima partita che non soffriamo da inizio serie l'ho detto troppo presto? l'ho detto troppo presto oh e non cominciamo bravo no bravissimo Beatle piano con redondo il culo che ho pagato chiedi i danni che c'è dei? calma vabbè ragazzi ma giochiamo un calcio giochiamo un calcio che 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 l'allegrivero se lo sogna no ritondo che batte cacci d'angolo anche no batte batte Franca anche che c'è 58 ma noi crediamo in lui e facciamo bene? no ma forse mamma mia King King è da rinnovare eh sì da rinnovare da da comprare prima di subito eh dobbiamo esercitare la nostra vabbè che se può fare il prossimo anno cacci d'ei era bello era sai cross tu sai crossare cacci d'ei faremo qualcosa con te prima o poi molta calma hanno la possibilità della ripartenza guardalo da rimini con furore no era bellissimo era bellissimo vabbè allora ehm direi dai questo panino dunque che potremmo ehm che potremmo mettere dentro Patel Patel potremmo mettere dentro ehm Mendy al posto di ballo e potremmo provare Duran Duran con un mallin un pochino marcato stretto oggi piccato per capire se Duran Duran c'ha effettivamente margini per per restare con noi o se abbiamo quattro punti ragazzi sono un po' tantini giocando giocando a uno lì davanti e poi a parte a parte Paolino che c'ha 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 il bonus carriera tu prova no l'ho vista su tar 7 vi giuro su quello che ho di più caro ah vabbè vabbè battite redondo battite faccia vedere ci piace devo dire devo dire che ci piace questo calcio d'angolo di redondo promosso chi batte Duran 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 si vuole presentare al nuovo pubblico così yeah cucchiaio su tar 7 mi sembra un buon modo mi sembra un buon modo di presentarsi bene che sia plus valenza che sia titolarità imminente il gol il gol serve tu ma tu io voglio il gol di redondo voglio il gol di redondo e quante rimpalle poi vince mannaggia a te mannaggia a te mannaggia vabbè sul 3 a 0 farei entrambi ibo e jones così abbiamo un po' un po' di tranquillità per tutti bravissimi mamma mia mai no oh calma guarda Patel Patel a giro mamma mia mamma mia Patel mamma mia Patel Duran Duran a parte rigore non ha veramente concluso una fava mamma mia Bradley mamma mia Bradley che c'è per Duran jones 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 con calma che cosa fai jones che cos'è non vuoi non vuoi essere guardato quando esulti va bene va bene ci gireremo dall'altra parte bene così il piccolo il piccolo dolce jones devo dire che comunque Duran l'assist lo ha fatto bisogna riconoscere bene un 4 a 0 rotondissimo che ci piace tanto ci piace veramente tanto e dunque vedete la giacca nuova la giacca nuova che mette paura ai giocatori c'è stata la partita bene ci siamo preparati meglio e direi avremmo dovuto vincere con più gol esattamente sì allora dunque è arrivata l'offerta per hughes che onestamente per me qual è il problema io vado a trattacco il torino metti metti forza altri 200 mila me li dai ma sì che me li dai bravissimo allora sei troppo importante mitra con calma allora la partita di 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 carabau l'abbiamo la carabau negli obiettivi no io non posso simulare più niente no aspettate vediamo un attimino se la carabau è un obiettivo stagionale no 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 non lo è non lo è non lo è e quindi la carabau giustamente quindi dentro diurich ade patel jones coppia inedita barnett mend yang madibo e cavità redondo che guida la truppa no lo fa yux lo fa yux ho detto lo fa yux però io io vorrei i cheat non ci sono i cdc va bene lo stesso va bene lo stesso 2 a 1 con sta squadra bene così bene così signori benissimo sono fiero di voi bravissimi rus venduto dunque franca cambia ruolo allora vediamo un po' 3 2 1 ha preso già un punticino signori ha preso già un punticino andiamo a fare i cross franca andiamo a fare i cross dunque è arrivata l'offerta per ale 3 milioncini e mezzo è è è è ma te l'avevamo già imprevistato guardate un attimo imprevisti calciomercato a me pare di no a me pare di no quindi 3 2 1 accetto l'offerta e la doppia l'ingaggio ma io ero già propenso ad accettare dunque per me onestamente ade ti sei voluto tanto bene andiamo a vedere quanto si può raccattare io a 3 9 se ci arriviamo non è che mi dispiacerebbe 3 5 senza discussioni 3 7 vabbè lali lal quindi va a giocare con cristiano ronaldo e vabbè ade ade ha fatto ha fatto il tempo suo chi sei rus ciao rus tristissimo seppur estigenato le sopracciglia in tanta la tristezza mi dispiace eh lo so eh lo so adriano 1800 si 1800 milione 8 ci sta ci sta onestamente onestamente ci sta così abbiamo fatto anche l'obiettivo allora adesso che abbiamo in tuto rus e abbiamo 1 2 3 4 difensori 5 con yux che tendenzialmente saremmo tranquilli l'unica cosa è che se fa male qualcuno dunque 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 io ho bisogno di centrocampisti centrali ragazzi però aspettiamo di vedere un attimino come butta qua la situazione andiamo avanti chi sei? yux ytan un milione e cinque beh devo dire non male non male bene sei l'uomo giusto ma in realtà io non sto cercando niente perché yux faceva il tribunale per cui non è che ci sai abbiamo tutte queste mancanze al momento no non ci sono allora no andiamo a vedere i cc c'è sempre c'è sempre cacetei ma se cacetei non si libera dai francesi diventa complicato ci sono ci sono barri nc mi era piaciuto ma se veniva a fare panchinaro a prezzi modici non così sono in attesa di un po' di resoconti di svincolati vari che potrebbero essere intriganti diciamo che per adesso per adesso possiamo andare così per adesso vi dirò vi dirò col Sunderland allora col Sunderland 3,2,1 non è sempre visto bene muy bien allora ci sta un bene che vorrebbe giocare un bene sei stanco sei stanco un bene sei stanco che te posso fare io nulla te posso fare sei stanco te faccio giocare 10 minuti giusto giusto che fate contento un tempo fai ogni volta che si simula il disastro a livello di stabilità generale va bene certo che col Sunderland le varie king non so se sia stata una bella pensata ma non voglio attraere i nostri equilibri di squadra proprio ora che belle magliette che neanche si confondono neanche si confondono devo guardare i pantaloni mamma mia a Bidol e piana bene su eh dai 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 raga eh Ford va bene eh vabbè questi questi sono caduti dalla premier se non sbaglio non è possibile che abbia preso pure questa ma è incredibile il portiere questo ho fatto due interventi in rapida successione che so no ballo ti prego ballo ti prego bravo bravo Luca raga a primo tempo siamo immeritatamente in svantaggio io mi gioca no mi gioca la carta mitra no mi gioco la carta duran che però no è un po' più veloce di malin in realtà e basta direi che basta e avanza staffetta lì davanti dobbiamo capire un po' duran bravo cacciatei ti prego da solo tu lo fai da solo non è possibile eh vabbè ah mamma mia bidol stanno andando pallonate noi purtroppo non riusciamo a essere concreti mamma mia io non capisco quali sono i miei su radar mannaggia il diz un po' in ombra oggi il diz ballo guarda guarda guardalo niente non ci va duran per franca guarda il diz no non ci credo non ci credo stavo in porta lo devi buttare fuori eh lo devi buttare non fa non fa non fa il fenomeno tira fuori il stor no vabbè vi prego vi prego sono in porta sono e fallo da dietro come fa a essere giallo no non c'è credo no ho preso pure questo ho preso pure questo non è possibile non è possibile ho preso pure quella non ci credo fatti tu Casadei bello ah Casadei salta l'uomo come pochi come pochi al mondo ma è sugli assist che mi è un pochino carente niente vabbè finisce così ragazzi finisce così 2 a 0 poco da fa sono più forti sono più forti più cinici sotto porta e noi ci possiamo fa poco eh vabbè pace va bene va bene allora c'è postato ma aveva illuso perché prima che fosse che fosse più semplice quest'anno invece no ci rifaremo ci rifaremo hanno meritato sotto porta ci manca ci manca il bomberone quello super convincente davanti porta buone nuove ti prego che età che è beh ma che età già sarà nato ma che mi frega di questo robert manga sarebbe stato molto bello edward di allo gaye e l'art di allo ma non non mi ispira nessuno devo dire la verità paolino mali no paolino non si tocca ade venduto allora ora che ade è stato venduto ciao grazie per quello che hai fatto per noi fino adesso ma adesso è tempo di andare è tempo di andare ci dai 3 milioni e 7 che porti in dote una bellissima io l'ho fatta 5 milioni addirittura ma chi mi dava 5 milioni matto allora allora abbiamo 9 milioni 9 milioni intanto paolino don't touch paolino paolino istituzione simbolo della serie capitano ad eternum non si tocca addio quindi noi abbiamo adesso come esterni franca da una parte patel e franca patel e casa dei io casa dei c'è un discorso da fare casa dei casa dei come cambio ruolo ad ci mette 14 settimane se io invece lo faccio lavorare tranquillamente una settimana ha livellato e io quasi quasi lo faccio livellare tranquillamente gli fa rifasta aumento generale così cresce un pochino un po' su tutto ma il dribbling non si riesce a far salire questo dribbling fai gli fa equilibra una settimana di equilibrato sale 75 e poi ci pensiamo che mi sembra la cosa migliore patel 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 detto patel scatto fai alla larga fai alla larga eeeh ci stanno i main che potremmo richiamare come panchinaero però rimane il problema dei 100 capistico c'è sempre questo piccolo problema dei centrali aspettiamo i resoconti tanto per adesso non è una cosa urgente per ora allora offerta per man di 4 milioni vabbè diciamo che tendenzialmente sarei propenso a dire di no però vediamo l'imprevisto che dice no bene quindi man a russa se n'è andato oara se n'è andato bellingham se n'è andato ok white se n'è andato redonda abbiamo fatto questo abbiamo anche risolto un attimino il registro aiuto scusate dunque quindi man no mitra abbiamo detto di no adesso mitra gioca titolare mitra titolare mitra assolutamente non l'ho fatto non l'ho fatto 321 no ok ci sta di bene oggi titolare mitra titolare mitra benissimo e paulino e paulino ce lo portiamo a posto di duran baden ce la fa più portiamo dentro barnet e andiamo così per forza per forza siamo un po' corti però 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 bravissimo man oh il diz mi si è abbioccato il diz oh eh non vi ancora il pallo dal 15 18 franca occhi ai mani eh qui qui so eh bravissimi bravo mitra franca in mezzo chi c'è il diz il diz ah non è arrivato ma tutti i fenomeni con noi cacciatei di romega mamma mia cacciatei redondo per il diz ah perché non ho tirato il diz ma che cazzo non la fai franca ci siamo comunque siamo in palla ma perché non gli ha dato il pallone a mitra giocabile mannaggia alla morte ma riarsate ma riarsate maledetto che ci provi pure guarda 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 che roba guarda che roba guarda io non ci posso credere non ci posso credere va bene cacciatei andiamo andiamo cacciatei andiamo il diz oh non ce la fate oggi eh oggi non ce la fate oggi non ce la fate vi vedo che non ce la fate vabbè io voglio fare la battata voglio fare la battata dentro jones e dentro patella al posto di franca si lo voglio fare quest'atto di follia di lucida follia forse io credo nella mia cantera a mitra però dai dammi una mano no non ci credo che cosa è successo bene sono d'accordo jones detrivela non è possibile che non ci va mai nessuno sulle ribattute però jones per mitra ah era bella l'idea può esserlo ancora oh questi comunque c'hanno c'hanno un bucio sui rimpalli che è una roba giragli intorno niente quanto siamo spreco eh li mortacci tu quanto siamo spreconi però sotto porta bitol dai 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 subito forse oh non riesco non riesco guarda che roba guarda guarda portaci tua guarda 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 devi essere più avanti però e molla sta palla mortascite pippo guarda guarda che roba guarda che roba mi fanno diventare matto mi fanno diventare mi fanno diventare matto mi fanno diventare oh gliela levi sta palla non gliela levi vabbè che partita assurda che partita assurda per 4 a 0 c'è veramente illuso di aver trovato la quadra quando in realtà la quadra è trovata in fascia va bene va bene va benissimo va benissimo due sconfitte di fila se prendiamo pure la terza e stare negativa che bello che gioia ragazzi abbiamo un problema davanti perché Marlin oggi sta a 0 Mitra sta a 0 Duranna ha fatto un coso di cuore non mi sembra proprio al massimo dell'esaltazione da vivere in questa fase 4 partite 3 punti non mi sembra proprio un inizio promettente ecco se devo essere estremamente onesto estremamente no ecco direi direi di no direi di no quindi che se fa non lo so non so che cosa che cosa dire onestamente mi aspettavo un inizio difficile ma non così difficile ma non così difficile Young è il nostro secondo mi ricordo manco più chi è il secondo di questa squadra si è lui Young 66 basta che manica di pippe comunque vai vai Young vai 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 tanto me sa che te si diceva vedi offerte senza diritto ecco vai vedi che te vade fa allora allora fatemi vedere un attimo se Caceteia ha preso il punticino si l'ha preso allora detto ciò visto che qui sembri sembra che tu abbia fatto quello che potevi fare possiamo tornare a lavorare sul tuo passare al lavoro di esterno che mi sembra la cosa migliore e ragazzi qui è Mitra c'è ottimo potenziale comunque lui ha ottimo potenziale e noi lo svilupperemo questo potenziale Durant dovrebbe pure darsi una rinfrescata ecco se tutto va bene lui ci ha già perso un punto che bello bene ragazzi io direi che per ora in attesa di sviluppi ci fermiamo qua io sono voglio capire un attimino questi giovanili questi svincolati se offrono qualcosa barriere CA non mi piace più onestamente penso penso che si possa fare di meglio white già 76 ma taci ma noi abbiamo bisogno con le opie è arrivato 82 è arrivato penso che potevamo fare con le opie e niente raga dobbiamo dobbiamo prendere un centocampista centrale di rincalzo io ne vorrei uno con lettura difensiva alta in realtà ma non sembra esserci vorrei comunque marcovici secondo me potrebbe essere il panchinaro il panchinaro che che ci manca ci sarebbe uno con le sua difensiva alta che potrebbe essere sto mattier però lui a far pacchiare non ci viene ma è quello mai no redondo e il diz per ora sono i tre intoccabili l'unico che potrebbe insidiarli è cacciatei ma ancora se lo prende quindi aspettiamo aspettiamo sviluppi qua che non mi sembra ci sia nessuno con lettura difensiva alta neanche qui però io credo in lui il medianone 1,95 è un po' che lo che lo insomma chiudiamo con la grande scommessa pedro ribeiro pedro ribeiro sei tu il nostro il nostro turnover addirittura vabbè se vuoi far turnover sei tu la mia la mia grande incognita allora pedro se vieni a fare il turnover so 10.000 10.000 10.000 ti va bene pedro quanto c'hai the overhaul quanto c'hai pedro ah addirittura ottimo affare in che senso parliamo di calcio vero 69 vabbè vabbè fate vedere a pedro 72 75 beh vi dirò vi dirò vi dirò vi dirò vi dirò tanto pipa non è tanto pipa non è fermi tanto pipa non è per niente 1 2 3 e 4 69 pedrito pedrito super pedrito allora tu sei cdc potresti anche fare il difensore centrale in realtà volendo però non ti vogliamo in quel ruolo cc 94 quindi no cdc vado per cdc difensivo leader 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 vada per il leader allora detto questo io a sto punto però farei una cosa ma se provassimo tipo ad arretrare uno ma io posso avere posso avere un cdc in questo ruolo se può avere si può avere un cdc in questa squadra cdc oh alleluia niente non non gli piace non gli piace io vorrei aver cdc qua ma non lo posso avere vabbè non lo posso avere ci ho provato vabbè ragazzi per ora la situazione è questa vediamo come butta con quei nuovi comunque libero lo voglio provare assolutamente si il difesa abbiamo detto un bete c'è un altro king bradley un bete non c'era un quarto non c'era me lo so sognato probabilmente si probabilmente si bel lavoro bene abbiamo fatto anche gli obiettivi e niente l'unica l'unica a pregare arrivato a questo punto l'unica a pregare quindi io per adesso vi saluto vado a pregare e speriamo che la prossima volta si possa fare qualcosa di interessante perché i soldi ci stanno e abbiamo fino a fine campionata e con la prossima volta chiudiamo il mercato si speriamo bene alla prossima ciao